Questa sera il Consiglio Comunale sarà chiamato ad un'analisi piuttosto dettagliata di tutte le linee di finanziamento fino ad oggi attivate dall'amministrazione comunale. È previsto infatti il monotematico richiesto da progressisti e civici nell'istanza formale inoltrata alla Presidenza. Vengono indicati in maniera analitica tutti i capitoli di un complesso sistema di progetti e stanziamenti. Si va da Patto per il Sud, passando per Agenda Urbana, Qualità Abitare, Rigenerazione Urbana e fino alla nuova programmazione 2021-2027. In totale le risorse stanziate con decreti in questi quattro anni aggiunte a quelle di strumenti istituzionali già autorizzati toccano quasi quota 300 milioni di euro. Le difficoltà sono all'ordine del giorno, alimentate dalla crisi finanziaria del municipio. L'intera struttura chiamata a gestire progetti ha risentito di fattori esterni e interni il gruppo di lavoro che sordì con Agenda Urbana, ottenendo riscontri costanti dalla regione man mano si è dovuto rapportare ad una preoccupante stagnazione che non ha permesso di procedere con tutte le gare. In queste ultime settimane arrivano segnali in controtendenza con l'affidamento della gara dei lavori di riqualificazione di Montelungo, gli sviluppi in essere per il secondo tratto del lungomare Federico II di Sveglia. L'attività è in corso inoltre sulla versante di qualità vitale rispetto al progetto dell'Orto Pasqualello. Ci sono però tante scadenze che spingono anzitutto nel versante PNRR e la necessità di avere piattaforme da aggiornare in costanza. Civici e progressisti si presenteranno in aula probabilmente con un documento da sottoporre all'attenzione dell'Assise. Di fatto, anche se non ci sono ancora conclusioni ufficiali, pare si voglia richiedere un rafforzamento dei controlli o un monitoraggio capillare con una più frequente comunicazione tra gli uffici e la struttura che coordina i programmi, che fa capo al dirigente Antonino Collura, l'amministrazione e l'Assise Civica. Nessuno è intenzionato a perdere la corsa per i finanziamenti, alcuni già depennati dalla regione e dal governo nazionale. Per questa ragione i richiedenti non pongono priorità all'aspetto politico quanto invece all'attuazione tecnica delle procedure, così da impedire scivoloni che potrebbero avere conseguenze pesanti su un ente che fa i conti con la crisi finanziaria e non può rinunciare agli stanziamenti già autorizzati per opere pubbliche altrimenti difficilmente realizzabili.